Allora, va bene, ciao a tutti ragazzi, allora oggi ci facciamo un altro paint e vediamo un po' cosa ne esce fuori, va bene, vediamo Allora, ecco, nel momento un po' di improvvisazione, non ho proprio idea Allora, ecco Qua ci vorrebbe un poco più di luce, un attimino che la mettiamo Un secondo, ecco, adesso penso che ci si vede un poco meglio, comunque, va bene Per il momento si vede molto astratto, ho voluto solamente fare qualche effetto così per vedere cosa mi ispira E viene fuori perché, a volte, non lo so, mancanza di... No, mancanza di idee o troppe idee, alla fine... Preferisco magari cominciare così, in questo modo, cercando di farmi venire qualche idea da quelle strutture che sono uscite fuori Vabbè, vediamo cosa succede... Comunque... Buona visione! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, non so se si vede bene, comunque è venuto così, un'improvvisazione alle 10 della mattina. Vediamo se lo riesco a inquadrare un attimo qua, ci sono un po' i riflessi della luce, diciamo. Comunque, questa parte qua. Ok, dai, allora, vi saluto e buona giornata a tutti. Ciao. Grazie. 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 Grazie.